Prima approfitto della sua cortesia, della sua straordinaria disponibilità, che prima di tutto questo io vorrei collegarmi in diretta con il sindaco di Ancona che vedete collegato. Intanto buongiorno, buongiorno al sindaco Silvetti. Innanzitutto la prima domanda, come sta? Buongiorno al sindaco, il piccolo miracolo si è compiuto, l'Ancona è in serie D, dopo domani dovranno essere completate le ultime formalità. Vogliamo cercare di capire qualcosa di più, la base, quali sono le società da un punto di vista tecnico-organizzativo coinvolte e che speranze ha anche di poi coinvolgere altre forze? Diciamo che siamo stati estremamente impegnati a creare condizioni perché ci fosse un'accordata locale che desse garanzie di attaccamento non solo alla maglia ma soprattutto agli interessi e alle aspettative dei nostri tifosi e della nostra comunità locale. E questo è avvenuto grazie soprattutto all'intervento e al coinvolgimento di società dell'Ancona Etano e quindi chiaramente siamo andati a mettere insieme vecchie conoscenze e nuove conoscenze. Quindi Stefano Marconi che tutti conoscono, Polci costruzione di Macerata ma che lavora a Dancona, i fratelli Cori per quanto riguarda Tecmed e poi una società che lavora al porto e che chiaramente ha la sede a Falconara. E quindi siamo riusciti a creare queste condizioni perché ci fosse in realtà non solo l'iscrizione, il pagamento dei 400 mila euro dell'indenità di esubero ma soprattutto che ci fosse un budget importante che potesse garantire la competitività della società e soprattutto della squadra che scenderà in campo in questo campione 2024-2025. Queste sono state condizioni rispettate e soprattutto hanno consentito l'Ancona con questa iscrizione da parte del FICC alla serie D. Adesso gli ultimi edempimenti entro l'11 per quanto riguarda la presentazione di fede di uscioni e altre incombenze amministrative. Ecco, situazioni che non dovrebbero creare problemi da quello che so e quindi a questo punto si concretizza anche l'ipotesi del Guerini-Ganda. Sì, diciamo è stata una grande dimostrazione non solo di attaccamento alla nostra città, Massimo Gadda tramite il suo procuratore aveva fatto sapere da tempo la sua disponibilità, oggi nasce un'interlocuzione sicuramente più concreta perché abbiamo lo strumento che è quello della disponibilità e della possibilità di disputare questo campionato, campionato che Mister Gadda aveva già sostenuto con il Ravenna lo scorso anno e ultimo ma non per ultimo la disponibilità di Mister Viguerini, in questo caso in veste di presidente. Adesso vedremo poi con quali tipi di carichi di lavoro perché Vincenzo Guerini vive in questo momento a Catania, quindi è piuttosto distante ma che comunque non vuole mancare e soprattutto vuole dare il suo contributo per ridare a L'Ancona, L'Ancona Calcio, ovviamente una prospettiva più stabile, più duratura e soprattutto con tutte le garanzie del caso. Ecco Sindaco, si è parlato di un piccolo miracolo, in effetti l'orgoglio d'Orico, a questo punto bisognerà che la gente risponda, risponda con gli abbonamenti, risponda con le sponsorizzazioni, anche le forze che fino adesso sono rimaste fuori da questo giro, è stato un piccolo miracolo, una resurrezione. Ecco, parlando di resurrezione viene in mente Pasqua, Pasqua viene in mente l'Agnello, Agnello che cosa ha fatto? Ma guardi, il Sindaco si relaziona con la FIGC e con gli imprenditori che hanno presentato un progetto concreto, serio e che davano tutte le garanzie. Per quanto riguarda il resto, Tamquan non è set, per quanto mi riguarda ho valutato solo cose e soprattutto proposte che arrivavano sul tavolo della nostra amministrazione, visto che è stata proprio la FIGC ad attivare la procedura ex articolo 52,10 del NOIF e dandoci questo tipo di responsabilità per chi era la FIGC che si rivolgeva non a una società sportiva ma alla città di Ancora. Attraverso un avviso pubblico abbiamo cercato di coinvolgere le imprese che fossero interessate, che volessero sostenere il nuovo progetto di Ancora. E il resto preferisco non commentarlo per correttezza istituzionale. Bene, grazie Sindaco di questa sua presenza e soprattutto della fiducia che riesce a trasmettere alla città e al movimento sportivo. E allora in bocca al lupo per tutto e a presto. Grazie direttore, grazie a tutti voi.